Grazie ragazze, siamo qua per ubriacarci. Ma gioco buongiorno? Sì, da 7-8 secondi. Come che chiuso? Dai, spingola qua. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, come va? Tutto bene, allora siamo qui riuniti per fare delle due viste due di Clash Royale insieme al mio amico Bruno. Ciao. No, ma perché non vai prima a fare così, scusa? Pure io ci sono. Giusto. Pure io ci sono. Ah, ci vogliono 3.000 coppe. E questo qua è il nostro clan. Pure io ci sono. Eh, c'è anche Vittorio. Sì, ci sei anche tu. E vai un attimo. E sono anziano. Ma sono anziano io. Eh vabbè, vaiciolo dopo. Ma non posso abbassarlo. Sì, ci sei. Tu mi fai invito un amico? Ti invito nel clan. Ma non ci puoi... No, se ti invito poi mi cacciano nel clan. Del clan. Dal clan. Va bene, dai cominciamo. Dai cominciamo. Manda. Io uso questo deck. Io uso praticamente... Quasi lo stesso. No, è un po' diverso. Dai, manda. Sì, ci sei anche tu. Eccoci. Ok. Ci siamo. Ecco, questo è il deck di... Brunus. Io amaro. Allora. Meti l'estratore. L'estratore. Brè. 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 Brè, brè. Oh, mio Dio. Corroganza. Salute. Ehi, io sono. Ja, metti l'estratore. Poi te schifo. Io ci zepo. Sos. Una pia, tu mosca, ti riesci a napipo. Ma che ti riede? Ce la stiamo giocando, dai. Sì, ce la stiamo giocando che è cominciata a prendersi a cotta. Appunto. Io vado con i tre moschi. Difendete, però, difendete. Fate quella cosa. Ma, tieni una via, l'eserro. Ma, fatelo qualcosa. Oh, yes, man. Oh, mio Dio, no. Questa, ci mi stavano là. Mi dà, Zapp. Ma non ce l'ho. 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 Se non ce l'ho. Ma se non ce l'ho. Sono i danni. I danni importanti. Sono i danni. It's important. No, 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 no. Mettilo qua, mettilo qua. Che cazzo? Dobbiamo fare la challenge. No, la challenge. La challenge. La challenge. Non mai. Spam. Qui, ragazzi, uso questo. Faccio così. Bravo, bravo. Vai. Carica. Sì, l'ho fatta. Forse abbiamo preso la torre. Sì, l'abbiamo presa, l'abbiamo presa. Abbiamo preso. Bravi, bravi. Grazie al mio Ariete. Ci sei anche tu. Grazie al mio Ariete. Non è vero. Grazie al mio Ariete. L'ho messo sia io. Grazie alla mia tornata. Sì, ma grazie alla mia tornata. No, no, no. Adesso golem. Oh, cala, cala, cala per colù. Conto l'estrattore prima. Così ti faccio capire. Io guarda come faccio. L'estrattore, che cos'è l'estrattore? No, ho sbagliato, perché ora metto la fulmina. E mi sono. L'estrattore mi piace. Sì, ci sei anche tu. Ma come l'estrattore? Andiamo a comprare un'estrattore a Vittorio. L'estrattore viene, signora. Sì, così poi gioca. Viene su lei. No, ti amo che tua madre è bella. Di soldi. Ah, di soldi. Eh, tutta la mia peggio, amico. La tre bella è l'estrattore? No. Sì, ci hanno attivato la torre centrale, ottimo. No. Bravo, così. Ottimo un tarallo. Possiamo vincere così. Bello. Clonale. Perché mi sa tornato? Ma perché io ho detto clonale? Io voglio la clonale. Sì. E' davvero, dopo. Ma dopo la pietra. Yeah. No. Che disdetto. Oh, difendati. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. La prima partita è andata, signora. La prima partita è piccata. È piccata. Secondo me con la web che mandava me. Di Simone e Bruno. Di Simone e Bruno. E di Simone e Bruno. E andiamo. Con la seconda. Vai, manda, manda. Vai, prendi la pietra se ci riesci. Gli dovremo comprare delle pietre più belle. Vai, 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 vai. Ma poi lo carico io a casa. Vai, vai. Veramente. Dopo mi dovete dire che mi si chiama e che la voglio andare a vedere. E te lo diciamo. Guarda, ho una mano di merda. Io butto subito la moschettura. No, perché l'hai... Così ce l'ho... Domani mattina ce lo vediamo su la TV. Davvero, figlio. Oh, no, bro. Ascola. E mi devo un po' credito. Con il pallone. Davvero, con il MG11. Oh, io abbiamo preso già l'attore. No, ma poi c'è l'altro. E' un po' sbarciallo. No, ero qua. E' un po' sbarciallo. 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 Oh, i doppio boscaiolo hanno messo. Abbiamo perso. Ma qua l'abbiamo perso. Ma qua l'abbiamo perso. Brn7. Non mento. E' un po' sbarciallo. Il fillare Nath sì. Perché è un po' sbarciallo. buono buono di presa buono io voglio una giocatura di fare vai qua adesso come facciamo a farti giocare coglione di merda poi oggi posso provare a giocare con me e io giochiamo io e te no però io non posso giocare perchè non ho feso no ti faccio giocare con il mio te lo d'le e no e dopo ti do il mio profilo ce l'hai tu il mio profilo ce l'hai tu ci giochi sempre non è vero me l'hai dato ma me l'ho solo cancellato ho solo il mio oh che bella cosa che ho fatto tornato guarda il minatore simone domani in piscina che bello forse vi farò un blog domani no domani noi non abbiamo tempo eh domani oh che bella zappa lo fa bruni in mare tu fai un blog al mare perchè no ti devo sputare perchè poi lo metti guarda che sfera invocata tirata di merda perchè allora qua abbiamo un piccolo probleme guarda è schifo uffa mi sembra che la torre ci hanno fatto ma porca troia ma porca troia ma porca troia non ci dicono le parolacce non ci dicono sei da chiesti non ci dicono non ci dicono le parolacce ci ho fatto non affatto all'ultimo secondo siete scarsi ma io mi stai fingendo i pasto bella zappa ci sono anche io vabbè c'è anche vittorio salutami saluta ahahah ecco piangole ottimo oh with each other miliardi siamo power è per me è veloce abbiamo del no 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 abbiamo non ci creo provato 3 un paio facciamo l'ultima parte di chiudere che è meglio che per voi non ho voglia che prego che avete perso e prego di più di più non dire così e prego ma facciamo l'oltre non ho mandato da te fate una cosa mettete tutti ma che vai tranquillo vai tranquilla che c'è bruno devo mettere il dac con il tre moschetti a bruno facci vedere tu come sei giocato a bruno facci vedere tu come sai giocare mostragli il pene dai che stiamo più carichi che mai secondo me te le tue pisteci ya se perdiamo contro questo dislike se perdiamo contro questo no ti ha fatto anche sul canale tra che tolcino aspettate che mi sono un moschetti tu non fai niente aiutami a difendere ma c'hanno le sono lì vallotto aspetta non ho il colmo del ghiaccio aspetta aspetta vai vai la volchina la volchina al tre raga la strega l'uno vabbè dai questa raga è pinta no albero 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 guarda la precisione la precisione solo quello quattro moschettieri quattro moschettieri e mi sa che si arrende si raga vai cinque moschettieri e vingono e che bell'episodio signore e si chiude così l'episodio con una vittoria la chiusura gliela faccio fare a lui allora 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 bella bella canzone così si chiude il video bella rega Nicolò stava ballando bella rega ci sentiamo al prossimo episodio ciao